Dal 1935 Forniciechi combina tradizione e innovazione per creare forni professionali per pizzerie. Siamo presenti in oltre 50 paesi nel mondo dove ogni giorno i nostri clienti scelgono i nostri prodotti per le loro pizzerie. I nostri forni sono ancora realizzati interamente a mano dai nostri artigiani, vero simbolo della tradizione italiana. Forniciechi offre una vasta gamma di prodotti alimentati a legna, a gas oppure elettricamente, sia disponibili con piano statico che rotativo. Operiamo a livello globale seguendo un processo attento e personalizzato per ogni cliente. Valutiamo le specifiche esigenze per identificare la soluzione ideale. Progettiamo e realizziamo forni su misura ed infine ci occupiamo della spedizione e dell'installazione diretta nel vostro ristorante. Tra i prodotti di punta di Forniciechi non può mancare il forno tradizionale per eccellenza, il forno alimentato a legna, disponibile sia con piano statico che rotativo. Il nostro forno elettrico rappresenta il culmine della tecnologia e dell'efficienza, garantendo risultati di cottura identici a quelli di un forno a legna. Anche per questo modello è disponibile il piano di cottura statico oppure rotativo. Tutti i nostri forni sono disponibili anche nella versione a gas, dando al cliente la possibilità di lavorare con il solo gas oppure in modalità mista legna a gas. Scegli i cecchi e troverai un partner di fiducia per il tuo forno made in Italy.